E allora noi stiamo lavorando su due ambiti. Da un lato con le misure di sanità pubblica cerchiamo di appiattire la curva riducendo i contagi e quindi dilazionando questa epidemia e dall'altro, lo vedete nel disegno che vi ha portato, aumentare il numero di posti letti in terapia intensiva, quello che si sta facendo in Lombardia in questo momento, perché la Lombardia è stata colpita prima delle altre regioni, in modo da poter avere una curva compatibile con la cura di tutti i pazienti che richiedono terapia intensiva. Questa è la strategia di oggi. Questa sembra un grafico complesso ma io ve l'ho portato perché, ahimè, di questo problema ci dovremmo occupare se le cose andranno bene, soprattutto se le cose andranno bene. Allora, noi in questo momento, avendo bloccato la curva naturale che è rossa, abbiamo sostanzialmente fatto scendere, speriamo, nei prossimi giorni il numero di nuovi casi e quindi sostanzialmente abbiamo fermato, grazie alle misure di distanziamento sociale, di allontanamento alle persone, abbiamo bloccato o speriamo di poter fermare questa epidemia. fra due o tre settimane, se le cose andranno così, si porrà un grosso problema perché da un lato c'è l'esigenza di ripartire con alcune attività economiche, culturali, formative e quant'altro, ma dall'altro si porrà il problema di non tornare a fare quello che si faceva prima perché questo significherebbe far riprendere la curva epidemica, vedete che in questo modello avremmo una seconda curva epidemica a distanza probabilmente di qualche mese. Allora io credo che oggi i grandi sforzi nell'ipotesi positiva che si possa arginare questa epidemia andrà nella direzione di portare avanti una parte di queste misure di distanziamento sociale e di prevenzione, portarla avanti anche nelle settimane e forse nei mesi futuri per evitare che questa epidemia abbia un secondo picco che vorremmo cercare di evitare. Chiudo con le priorità di oggi e credo che siano quelle che il mondo scientifico oggi suggerisce alle istituzioni. Noi oggi dobbiamo prima di tutto garantire la funzionalità del sistema sanitario per Covid-19 ma per tutte le altre patologie. Come abbiamo visto non sarà così breve e quello che noi diciamo alle istituzioni è che a un certo giorno dovremo sederci a un tavolo e conciliare le esigenze di sanità pubblica che dureranno per un po' le cosiddette misure di mitigazione con la ripresa di alcune attività economiche e questo giorno credo sarà un giorno complicato per tutte le discussioni che ne nasceranno. Io credo che chiudere in questo caso sia più facile che riaprire e io credo che la sfida da vedere nelle prossime settimane.